Di che segno sei? Vergine. Cani o gatti? Ho un debole per i cani. Come fai a combattere lo stress? Eh, se lo sapessi, te lo dicessi. Beh, allora io ho tre antistress pazzeschi che sono i miei cani, i miei amori, gli amori della mia vita, Kikko, Maggie e Graceland. Sii sincero, chi è la persona che ti sta rendendo felice in questo momento? Me stessa. Mi sto rendendo felice da sola perché sono orgogliosa di quello che sto facendo da due anni e mezzo a questa parte e come sempre mi devo arrangiare io se voglio stare bene, nonostante abbia una famiglia alle spalle che comunque mi vuole bene, mi sostiene, però alla fine sono io quella che mi sto autorendendo felice. Se un'amica ti tradisce, la perdoni? Ha bisogno vedere che cosa ha fatto. Comunque penso che nessun tradimento possa essere così grave da essere ritenuto una tragedia. le tragedie sono ben altre, chissà, magari col tempo riuscirei a perdonare, sicuramente magari al momento no, resterei delusa, eccetera. Chissà, magari potrei aver sbagliato anch'io, eh? Perché se un'amica mi tradisce probabilmente devo fare mia colpa anch'io. Bisogna vedere caso per caso. Ma tu sei una ragazza felice? Diciamo che ne ho sempre una, perché da due anni a questa parte, appena sono felice, arriva subito un qualcosa che distrugge la mia felicità. adesso di nuovo un periodo no e spero tra qualche giorno che torni ad essere un periodo sì. Quante volte hai tirato un sospiro e sei andato avanti? Tante volte. In questo periodo ogni giorno. Davvero. Qual è la tua più grande paura? La mia più grande paura? Dipende un po' da cosa intendi. Se parli di fobia, ecco, io ho paura delle superstrade. Una volta non ero così. Invece adesso mi dà fastidio proprio per correre le superstrade. Altre paure? No, non ne ho. Paure nel vero senso della parola. Vabbè. Le malattie, ma... Insomma... Le malattie, quelle gravi? Quelle sì, mi fanno paura. Le dimensioni contano? Quelle del cervello? Sì, tantissimo. Un papà nero Dopo Miss Italia Vero un papà nero Non me par vero Un papà nero Che ascolta a me canzoni Venezia, Parchese, Nero, Africa Come ti chiami? Roberta. Di dove sei? Venezia. Come stai? Lasciamo stare. Sei fidanzata? No. Va bene. Ti basta così. Da 1 a 10 Quanto ami la musica? Direi 7 Non sono proprio Un'appassionata di musica Però ascolto di tutto Anche la musica classica L'opera Davvero Sì, mi piace la musica Non è che proprio Mi fa impazzire Però 7 Sì, sì Anche la musica Sì, sì Sì, sì